Musica Navigator, il ministro conferma la svolta. Ampal annuncia l'avvio delle assunzioni. Il ministro Catalfo assicura i contratti sono pronti. Previsto un rafforzamento sui centri per l'impiego e la regione sta procedendo ad un bando per 650 nuove assunzioni. Napoli, De Magistris, ora siamo più forti. Il sindaco mette fine alla lunga scena di polemiche. Sul rimpasto della giunta, una svolta necessaria e difende a spada tratta l'assessore De Maio accusata di antisemitismo dalla comunità ebraica napoletana. Riparte la strada che unisce i due mari, firmati stamani in regione, gli atti che consentiranno la ripresa dei lavori della Lioni Grotta Minarda, l'arteria che collegherà la Napoli-Bari alla Salerno-Reggio Calabria. De Luca è sicuro, così rilanciamo lo sviluppo delle aree interne. Muore dottore in guardia medica, la tragedia in Irpini a Villanova del Battista. Aveva 28 anni, medico chirurgo di Taurasi e stava svolgendo il turno di lavoro. Lo hanno trovato senza vita. Nessun segno di violenza, lo ha ucciso un malore. Colpo alle poste, presi i banditi, che i ravvinieri hanno arrestato la famiglia di rapinatori, che lo scosto settembre aveva messo a segno un colpo all'ufficio postale di Giffoni-Vallepiana, nel Salernitano. Ai domiciliari tre persone di Nocera. A casa avevano ancora gli abiti utilizzati per il raid e parte del bottino. Il sagno si ribella a ecoballe da rimuovere. La provincia di Benevento chiede alla regione l'immediato trasferimento delle ecoballe arrivate da Napoli per il fermo del termovalorizzatore di Acerra. Il presidente Di Maria avverte, si rispettino gli accordi. E questi erano i nostri titoli. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. In apertura la svolta per i navigator. Dopo più di sei mesi di lotta, finalmente arrivano i contratti e le assunzioni. La conferma è giunta anche questa mattina dal ministro per la pubblica amministrazione Catalfo, che è stata a Napoli. Vediamo. Via libera per l'assunzione dei 471 navigator in campagna. la buona notizia è stata annunciata anche dal ministro del lavoro Nunzia Catalfo, arrivata a Napoli per il forum della pubblica amministrazione nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio. Sui navigator la situazione si è sbloccata, per cui nei prossimi giorni procederemo, Ampal procederà alla contrattualizzazione. Parlando sempre di nuove assunzioni, non dimentichiamo che il decreto sul reddito di cittadinanza ha previsto un rafforzamento importante dei centri per l'impiego, anche lì con nuove assunzioni. So che la regione Campania sta procedendo a un bando per 650 nuovi assunti, ma che saranno comunque in tutto 1550 nel giro dei prossimi anni, quindi fino al 2021. Il ministro a margine dell'evento ha anche annunciato ritocchi alla legge Fornero. Ho preso l'impegno con le parti sociali e con i sindacati di iniziare, anzi già abbiamo fatto un primo incontro, di iniziare a fare degli incontri e un percorso per andare a rivedere le forme di flessibilità in uscita, quindi per rivedere la Fornero. E sul caso Almaviva il ministro assicura il governo, segue tutte le vertenze campane. Abbiamo un tavolo proprio su questo tema, anche sul tema dei call center, proprio per evitare che ci sia uno spostamento dei lavoratori e del lavoro all'estero e che i nostri lavoratori non possano rimanere in Italia. Catalfo ha rimarcato l'eccellenza raggiunta proprio nel polo di San Giovanni a Teduccio. Quello che si sta facendo qua, sviluppo, ricerca e aziende, quello secondo me è il futuro del lavoro. Andiamo al comune di Napoli. De Magistris prova a mettere uno stop alla scia di polemiche che è nata dopo il suo rimpasto in Giunta. Comprendo l'amarezza, ma era necessario, ora siamo più forti. E soprattutto difende l'assessore De Maio, accusata di antisemitismo dalla comunità ebraica. Vediamo. Convinti della scelta migliore, la Giunta esce rafforzata. Luigi De Magistris, il giorno dopo l'ufficializzazione dei cambi in Giunta, prova a smorzare le polemiche. Con gli ex assessori usciti, nessun contrasto assicura Dema. La Giunta esce rafforzata, ringraziando chi ha lavorato sinora. Mi auguro che la maggior parte di loro, se non tutti, rimangano in questa grande squadra, perché non si rimane nella squadra solo quando hai un incarico o una poltrona, se ci credi. Ma la difesa dell'ex PM è tutta per Eleonora De Maio. Il neo assessore alla cultura, molto vicino ai centri sociali, è stata accusata di antisemitismo dalla comunità ebraica napoletana. È una polemica, secondo me, che deve rientrare. Perché l'amministrazione comunale di Napoli non ha nessun sentimento né antisemita, né contro la cultura ebraica, né contro il popolo ebraico. È chiaro che io assolutamente non sono contro gli ebrei, ma basta veramente aprire una pagina di Wikipedia per scoprire che l'antisemitismo non ha niente a che fare con l'antisionismo e che sicuramente è espresso negli anni critica molto feroci allo Stato di Israele e in particolare al governo Netanyahu, ma questo non ha niente a che fare con l'essere contro gli ebrei. Anzi, è una polemica davvero strumentale per una persona che è stata presente, ha costruito tutte le piazze antifasciste degli ultimi 15 anni. Antifascismo è di per sé, diciamo, memoria di quello che è stato negli anni 40, memoria della Shoah e soprattutto lavoro perché non accada mai più. Le critiche oggi arrivano da quelle parti politiche che la settimana scorsa non hanno votato la commissione dell'odio proposta dall'Ina Segre e che tra l'altro danno spazio quotidianamente, non lo dico io, ma lo dicono fior fior di inchieste che sono uscite negli ultimi tempi, a quei gruppi neonazisti che quelli sì sono esplicitamente antisemiti e quelli sì che odiano gli ebrei con posizioni che veramente fanno accapponare la pelle. Che questa accusa arrivi a me è veramente ridicolo. Una giornata storica per la Lioni Grotta Minarda, la strada a scorrimento veloce che collega il Martirreno all'Adriatico dopo 11 mesi di stop. Questa mattina in giunta alla Regione la firma dell'accordo per lo sblocco del cantiere. Vediamo. Una giornata importante per la Lioni Grotta Minarda. Oggi la firma dell'accordo nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia per sbloccare i lavori fermi da 11 mesi. Il consorzio Intrasud, condotte acqua S.p.A. e le imprese impegnate sui diversi cantieri della costruenda strada a scorrimento veloce hanno cancellato ogni pendenza con il Ministero delle Infrastrutture. Potranno quindi preparare l'allestimento dopo lo stop forzato causato dalla mancata conferma della struttura commissariale. La firma dell'accordo alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca. C'è voluto coraggio a firmare una transazione. Le imprese hanno rinunciato alle riserve quindi hanno avuto un atteggiamento di disponibilità. Noi ci impegniamo a pagare in tempi rapidi gli stati d'avanzamento. Per noi era un'opera strategica. Rimane un'opera strategica per il collegamento tirreno-adriatico. È un segno doveroso di attenzione all'Irpinia. È una delle cose più importanti che facciamo per l'Irpinia per rompere l'isolamento di un intero territorio ed è un modo per immettere nell'economia della regione 400 milioni di euro in grandissima parte di fondi regionali. Siamo veramente molto molto soddisfatti. Al tavolo era presente anche la Presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio, che ha esternato la propria soddisfazione. Stamattina finalmente abbiamo firmato. È possibile ripartire. Io credo che già il 29, quando la Ministra De Micheli sarà a Grotta Minarda, ci sarà una visita al cantiere insieme con il Presidente De Luca e per la prima dega di dicembre i lavori riprenderanno. Mi pare davvero una bella notizia. Il Vice Presidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulle universiadi. La Procura di Napoli contesta presunti favoritismi nell'accoglienza di circa mille atleti al Grand Hotel Salerno. Vediamo. Corruzione è l'ipotesi di reato che la Procura di Napoli contesta al Vice Presidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, e all'imprenditore Rocco Chechile, proprietario del Grand Hotel Salerno. Nel mirino dei magistrati l'accoglienza di circa mille atleti e relativo staff in occasione delle universiadi. Per i PM Woodcock e Raffaele, titolari dell'inchiesta, l'hotel salernitano sarebbe stato scelto per il rapporto privilegiato tra Bonavitacola e l'imprenditore. In albergo sono così arrivati i carabinieri che hanno effettuato una perquisizione e acquisito il registro dei pagamenti per verificare i pernottamenti dello stesso Bonavitacola o dei suoi familiari. Si tratta di un filone dell'inchiesta più ampia che riguarda le universiadi e che ha messo nel mirino non solo l'accoglienza, ma anche i servizi di trasferimento del personale accreditato. Al mattino, Bonavitacola ha ricordato che per la scelta delle strutture la gestione commissariale si è affidata alla Consip, che ha gestito poi con procedure proprie gli affidamenti alle strutture ritenute più idonee. Il vicepresidente ha inoltre smentito in maniera categorica il nesso ipotizzato dai magistrati tra i rapporti personali con il gestore del Grand Hotel Salerno e l'ospitalità degli atleti delle universiadi. Bonavitacola ha infine espresso piena fiducia negli organi inquirenti e si è detto certo che in tempi rapidi si potrà accertare la sua estranetà a qualsiasi condotta illecita contestata dalla procura partenopea. Tragedia a Villanova del Battista in Irpinia. Un medico di soli 28 anni è morto durante il servizio notturno in guardia medica. Vediamo. Aveva preso servizio da due settimane presso la guardia medica di Villanova del Battista e un malore fulminante, ironia della sorte, non gli ha dato scampo. L'hanno trovato riverso a terra con la faccia e una mano rivolta al divano nel tentativo di aggrapparsi. È morto così Ersilio Piccariello, medico 28 anni di Taurasi. Non ha avuto neppure il tempo di chiedere aiuto. Un appuntamento con la morte inaspettato nel cuore degli anni doveva aver effettuato la sua ultima visita pochi minuti prima di mezzanotte e mezza. La testimonianza di un'anziana residente di fronte alla sede del presidio di continuità assistenziale. L'hanno conosciuto dalla prima volta che è venuta un bravo ragazzo è stato sempre qua in mezzo all'astrato un ragazzo amico. Figlio di medici, papà Gerardo è anestesista a San D'Angelo dei Lombardi e mamma Olimpia medico di base in paese a Taurasi. Due genitori sconvolti, una comunità annientata da un dolore che toglie il fiato a chiunque restituitemi mio figlio risparmiatemi almeno lo strazio dell'autopsia sono le parole disperate di papà Gerardo rivolte ai carabinieri. Sul posto il direttore del distretto sanitario di Ariano Iorpino Antonio Mainiero le sue parole. Ragazzo giovanissimo all'inizio della sua carriera peraltro brillante figlio di un caro amico e quindi insomma c'è poco poco da dire cortoglio e vicinanza a questo dolore immenso dei familiari. I carabinieri hanno arrestato la famiglia di rapinatori che le scorso settembre ha messo a segno un colpo all'ufficio postale di Giffoni Vallepiana nel Salernitano. Ai domiciliari tre persone di Nocera. Vediamo. Sono state queste immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interno a dare una mano ai carabinieri della stazione di Giffoni Vallepiana nell'individuare i tre presunti responsabili della rapina all'ufficio postale del comune salernitano. I militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari firmata dal GIP del Tribunale di Salerno. Gli indagati sono tutti appartenenti ad un unico nucleo familiare e risultano residenti a Nocera Inferiore. Secondo la ricostruzione degli investigatori le persone arrestate avrebbero agito in due momenti distinti. Il 6 settembre alla frazione Curti di Giffoni la tentata rapina. Il colpo si è poi concretizzato il 18 dello stesso mese quando uno degli indagati con il volto parzialmente coperto e armato di pistola è entrato nell'ufficio postale e sfruttando l'assenza di altri clienti si è fatto consegnare il denaro presente nelle casse compresa quella automatica. Un bottino complessivo poi quantificato in circa 20.000 euro messo insieme attendendo per circa un quarto d'ora l'apertura temporizzata della cassa e tenendo in ostaggio il personale. Nelle perquisizioni domiciliari i carabinieri giffonesi hanno rinvenuto e sequestrato gli indumenti utilizzati nella rapina e alcune repliche giocattolo di pistola oltre a 10.000 euro in contanti. Andiamo nel Sannio la provincia di Benevento chiederà alla regione la rimozione delle coballe arrivate da Napoli durante il fermo del termovalorizzatore di Acerra. Terminata l'emergenza il Sannio chiede quindi il rispetto dell'accordo. Vediamo. Nella sede della provincia di Benevento riunione per fare il punto della situazione sulla questione del ciclo integrato dei rifiuti. Al tavolo il presidente della provincia Antonio Di Maria è il neo direttore generale dell'ente Nicola Boccaloni lato rifiuti e la Sannio al centro dell'incontro la difficile situazione in cui versa la filiera sannita privata dello stir danneggiato pesantemente da un incendio di oltre un anno fa. in primis la provincia chiederà la rimozione delle coballe arrivate nel Sannio durante i 45 giorni di fermo del termovalorizzatore di Acerra. Ora l'impianto è ripartito e quindi le coballe dovranno essere riportate a Napoli. La prima ipotesi che è sul tavolo è sicuramente quella di far mantenere gli impegni assunti dalla regione Campania quando hanno portato qui le coballe a top invocate quindi le coballe che hanno portato qui devono essere rimorsi nei tempi e nei modi previsti da quella convenzione ma non solo quelle devono essere rimosse anche quelle di top invocate cioè noi chiediamo di mantenere gli impegni assunti. Riflettori ancora accesi anche per l'avvertenza dei lavoratori della Samte. Noi se vogliamo salvare in modo concreto e serio i lavoratori dobbiamo far ripartire il ciclo di rifiuti nella provincia di Benavendo con un piano serio e un piano concreto. Noi quindi stiamo lavorando in questa direzione stiamo facendo dei grandi sacrifici tant'è vero ancora non sono partiti le lettere di licenziamento per quanto riguarda i lavoratori. Inquinamento nella Valle del Sabato parte il processo questa mattina la prima udienza al Tribunale di Avellino per otto persone. Non si costituiscono parte civile i comuni di Avellino e Montefredane. Si è celebrata oggi la prima udienza del processo per l'inquinamento della Valle del Sabato che vede imputati a vario titolo otto persone. Nell'indagine coordinata dal procuratore capo Rosario Cantelmo e dai sostituti Cecilia De Angelis e Roberto Patscott è finito anche Nicola Boccalone ex manager di Irpini Ambiente società che si occupa della raccolta dei rifiuti per numerosi comuni irpini. Grandi assenti le parti offese individuate nel comune di Avellino e nel comune di Montefredane presente invece la provincia di Avellino che tramite il suo avvocato si è costituita parte civile. Presente al processo anche il comitato salviamo la Valle del Sabato che in qualità di persona danneggiata dal reato ha chiesto l'ammissione della Costituzione di parte civile. Gli inquirenti contestano il recupero lo smaltimento di centinaia di tonnellate di rifiuti che non avrebbe rispettato alcune prescrizioni imposte dall'autorizzazione integrata ambientale. Alcuni rifiuti sarebbero stati stoccati senza la stabilizzazione biologica in condizioni aerobiche producendo proprio i cattivi odori percepiti dai residenti. Le difese degli imputati hanno chiesto per alcuni capi di imputazione l'oblazione cioè il pagamento di una somma di denaro stabilita dalla legge in relazione alla contravvenzione commessa estinguendo così il reato. Il processo è stato rinviato il 29 gennaio 2020 in quella data il giudice Corona potrà decidere in merito alle richieste a lui avanzate. è morto dopo cinque giorni di agonia il ragazzo che era stato travolto da un treno nella stazione di Angri in provincia di Salerno aveva solo 17 anni i genitori hanno donato gli organi vediamo non ce l'ha fatta il giovane Tobia Falcone si è spento nella tarda serata di ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore era ricoverato dallo scorso 8 novembre quando fu colpito da un treno in transito alla stazione di Angri nella provincia di Salerno il cuore di Tobia si è fermato dopo cinque giorni di agonia le sue condizioni erano gravissime il ragazzo era stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia per ridurre l'emorragia cerebrale i medici che lo avevano in cura avevano dato ai familiari poche speranze Tobia quella drammatica mattina si trovava in stazione ad Angri dove abitava diretto a Cava dei Tirreni per raggiungere la sua scuola frequentava il penultimo anno delle superiori avrebbe compiuto 18 anni il prossimo primo dicembre non si sarebbe accorto del treno in transito che lo ha colpito alla testa tantissimi messaggi di cordoglio in ricordo del 17enne tra questi anche quello dell'ex sindaco di Angri Cosimo Ferraioli che su Facebook ha scritto riposa in pace Tobia Giovane Angelo estremo gesto d'amore da parte dei familiari del 17enne che hanno deciso di donare gli organi del ragazzo e spiantati cuore fegato reni e corne dall'equip giunti a Nocera dagli ospedali dove gli organi sono stati destinati per essere trapiantati su pazienti in attesa in costante contatto con la centrale operativa del centro regionale trapianti della Campania in prefettura Benevento riunione fiume sull'agibilità da concedere in maniera definitiva allo stadio Ciro Vigorito comune vigili del fuoco società calcistica e tecnici si sono riuniti per affrontare la questione vediamo c'è speranza che entro fine anno lo stadio Ciro Vigorito di Benevento abbia finalmente il documento di agibilità definitiva questa mattina in prefettura una lunga riunione tra i vertici del palazzo di governo la società calcistica il comune i vigili del fuoco e la questura per esaminare e cercare di sciogliere gli ultimi nodi per ottenere il documento entro dicembre la commissione dovrebbe acquisire anche l'ultimo progetto richiesto per la definitiva agibilità c'è da depositare c'è da depositare ancora qualche altra certificazione soltanto per la parte elettrica oggi grazie al grande aiuto dell'ingegnere Mandarini è stato depositato un progettino che riguardava l'alimentazione delle torri faro che sappiamo che ricordiamo essere alimentata da gruppi elettrogeni c'è la richiesta di un definitivo ultimo appunto il definitivo progettino che verrà depositato entro la fine dell'anno al centro del vertice anche la richiesta sollecitata dal sindaco Mastella di ottenere l'apertura della nuova tribuna stampa martedì ci sarà un sopralluogo dopo di che la commissione darà diciamo il beneplacido per l'apertura richiesta fortemente calteggiata dal sindaco perché non era giusto che i partiti importanti come anche quelle della nazionale femminile di calcio i giornalisti provenienti da tutte le parti d'Italia stessero all'aperto e torniamo nel Salernitano si aggrava il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre sulla Cilentana nello svincolo di Agropoli Nord a perdere la vita dopo quasi un mese di agonia una ragazza di 17 anni di Albanella era ricoverata nell'ospedale Cardarelli di Napoli le condizioni della ragazza sono parse subito gravissime tre le auto coinvolte tra queste una Smart con a bordo il 37enne Francesco Farro morto invece sul colpo All'ospedale Moscati di Avellino arrivano i rinforzi per il pronto soccorso il manager Pizzuti annuncia nuove unità tra medici ed infermieri ecco come saranno rafforzati i reparti sentiamo SOS personale per l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino arrivano i rinforzi svolta per il pronto soccorso è stata infatti pubblicata nelle scorse ore la graduatoria dei vincitori del concorso per la selezione di 12 medici specializzati in medicina di accettazione ed urgenza e di questi 7 saranno assunti con contratti a tempo indeterminato mentre altri 5 ancora specializzanti con contratti a termine ma con la certezza di essere stabilizzati soddisfatto il manager del Moscati Renato Pizzuti che annuncia anche nuovi innesti per gli infermieri che andranno a rinforzare più reparti sul pronto soccorso abbiamo concluso proprio l'altro giorno un concorso per 12 medici di accettazione di urgenza vediamo ora quanti di questi 12 accetteranno di lavorare qui al Moscati e abbiamo anche già da qualche settimana avviato l'assunzione di 75 infermieri di cui una decina sicuramente andranno al pronto soccorso e sull'Andolfi viene confermata dal manager la volontà di diversificare le attività sanitarie mantenendo i due poli territoriali il mio obiettivo è quello di rendere Solofra un presidio perfettamente funzionante e integrato con il presidio di Avellino facendo fare ai due presidi qualcosa di diverso quindi diversificarli salvaguardare la prima economia della città presentato questa mattina a Salerno il patto per il porto che prevede anche la realizzazione di una struttura multipiano per un parcheggio vediamo un patto per il porto di Salerno che vada oltre le divisioni politiche e partitiche con l'obiettivo di salvaguardare la prima economia della città il consigliere di opposizione Dante Santoro lancia la proposta di un parcheggio multipiano allo scalo commerciale con l'intento di agevolare i flussi e decongestionare una struttura che ha uno dei suoi limiti proprio nelle dimensioni è un tema anzi è il tema ad oggi il porto di Salerno rappresenta la prima economia della città l'ultima superstite in una città che ormai ha perso il distritto industriale ha un commercio in grave crisi e quindi noi parliamo della vita di migliaia di lavoratori ma anche della vivibilità della città perché avere un multipiano all'interno dell'area portuale è una grande occasione da non perdere e permetterebbe anche di gestire meglio i flussi e di decongestionare il porto perché parleremo poi di uno scarico di merci più veloce più agile e che renderebbe competitivo il porto di Salerno questo è un tema importante è strano che in questi anni non se ne sia parlato ci sono vari attori istituzionali e privati che si sono uniti intorno a questo tema manca quello principale quindi il comune di Salerno deve farsi carico di questa tematica io voglio lanciare un patto per il porto tutte le forze politiche si devono pronunciare su questo tema mi farò promotore di una mozione in consiglio comunale porteremo il tema in commissione urbanistica perché è importante ne va del futuro della città se ci sarà la corsa alle rivendicazioni all'ultima firma non ci interessa l'importante è che questo consigliere ha sbloccato la realizzazione di un'opera che può garantire un futuro migliore alla nostra città valorizzare gli scarti agricoli trasformandoli in biometano il tema al centro del convegno che si è svolto questa mattina a Benevento con molti aspetti valorizzare gli scarti agricoli trasformandoli in biometano affinché diventino una risorsa per l'agricoltura questo è il tema al centro del convegno promosso a Benevento con esperti istituzioni ambientalisti per discutere dell'impatto della bioenergia per il territorio con la presidente regionale di Lega Ambiente Maria Teresa Imparato provare attraverso la bioenergia a portare biometano quindi energia pulita a casa dei cittadini utilizzare anche il biometano per i trasporti pubblici ormai dal 2018 si può bisogna mettere in campo tutte le tecnologie e le innovazioni che oggi ci sono per costruire degli impianti impianti che sono con impatti molto positivi per i territori soprattutto territori come la provincia di Benevento che ha una storia di comuni ricicloni importanti ma che ha una storia di agricoltura importante un'opportunità dunque non solo per l'agricoltura per promuovere sempre più nelle aree interne un'economia che guardi allo sviluppo locale e che rivolga attenzione all'ambiente riutilizzare gli scarti invece di materia prima vuol dire non può che avere un indirizzo positivo ed è questa l'economia che dobbiamo disegnare a partire dai nostri territori di qui limito alle aree interne del territorio campano a rispondere alla crisi puntando sulle nuove opportunità di sviluppo locale progetto di cui i cittadini dovranno essere protagonisti da provare a raccontare in una narrazione positiva la costruzione della fabbrica del benessere l'aria interna come fabbrica del benessere per mettere in campo strade di sviluppo locale attraverso la bioenergia attraverso un'economia verde in cui i cittadini però devono essere una parte importante l'arte e l'ambiente arrivano 100 lupi in piazza municipio a Napoli per ricordarci che la natura a volte risponde alle devastazioni operate dall'uomo l'installazione del cinese Liu Rowang rimarrà a Napoli fino al 31 marzo vediamo un branco di 100 lupi minacciosi in ferro ognuno del peso di 280 kg sono stati installati in piazza municipio a Napoli si tratta dell'opera firmata dall'artista cinese Liu Rowang organizzata e curata da Matteo Lorenzelli animatore della storica galleria milanese con la collaborazione di Mailot e promossa dall'assessorato alla cultura e al turismo del comune di Napoli la grande installazione resterà in città fino al 31 marzo 2020 propone una riflessione critica sui valori della civilizzazione e sulla grande incertezza in cui viviamo oggi per contrastare il rischio di un progressivo e irreversibile annientamento del mondo attuale e del suo habitat naturale Liu Rowang è uno dei maggiori artisti contemporanei della Cina le sue opere sono spesso una vera denuncia dei rischi provocati dalla perdita dei valori umani mortificati dal sistema oppressivo della vita contemporanea Napoli è il teatro ideale per i suoi cento lupi l'impatto dei lupi minacciosi è molto forte sui passanti l'opera ha diviso l'opinione l'opinione dei visitatori i lupi sono rabbiosi ma se voi guardate sono rabbiosi solo a prima vista perché poi le persone che interagiscono di più con loro sono i bambini e i bambini se voi fate caso sono i bambini i primi che si avvicinano li toccano li cavalcano quindi molte volte ed è anche una delle cose peculiari dell'opera dell'artista il fatto che il bambino che è l'essere più puro si avvicini a un'opera d'arte è una cosa bellissima perché comunque noi adulti abbiamo una serie di presudizi o di preconcetti che magari ci frena e non ci fa apprezzare fino in fondo l'opera d'arte conferenze incontri e approfondimenti al Via a Pessum la 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo per l'assessore Matera un'iniziativa unica nel suo genere per addetti ai lavori e appassionati che conferma l'obiettivo della campagna puntare al turismo culturale è partita e chiudere ai battenti domenica la 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico location della manifestazione il comune salernitano di Pestum l'evento vedrà 70 tra conferenze e incontri con la partecipazione di 300 relatori e 100 operatori dell'offerta approfondimenti e divulgazione su temi dedicati al turismo culturale e al patrimonio per addetti ai lavori operatori turistici ma anche viaggiatori e appassionati la Borsa archeologica è l'unica borsa che insomma esiste in Europa è un'occasione per raccogliere nuove stanze dobbiamo dire che tanti sono i partecipanti operatori il mondo delle scuole dell'università appassionati è un'occasione per programmare nuove iniziative con i tanti operatori che si ritrovano in questa giornata sul turismo culturale noi abbiamo messo in campo tante azioni e oggi sono dati oggettivi la campagna è la seconda regione che riesce ad attrarre flussi turistici al livello nazionale per cui significa che questa è la strada giusta e con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia Enrico Coppola adesso ci sono le previsioni del tempo grazie per essere stati con noi una buona serata grazie a tutti grazie a tutti